Che delusione, che delusione e che batosta. Sassuolo batte Napoli 2-0, queste sono quelle sconfitte che ti lasciano un'amarezza davvero incredibile che ovviamente rimpiangerai per l'intero campionato. Ma purtroppo il Napoli quest'oggi ha nuovamente palesato quello che in questo momento è il suo maggior limite ovvero quello di tendere a giocare troppo sotto ritmo dinanzi a squadre che chiudono tutti gli spazi e dopo la nostra super prestazione contro l'Atalanta nella quale abbiamo offerto un calcio spettacolare e siamo stati devastanti offensivamente è la terza volta che ci capita di incontrare squadre che non sono solite adottare un atteggiamento difensivo ma che puntualmente contro di noi si chiudono perché probabilmente avranno capito che è il modo migliore per limitarci dunque è un limite che stanno provando a sfruttare un po' tutti e bisogna lavorare assolutamente su questo aspetto altrimenti noi più volte rischieremo di perdere punti in questo tipo di gare ancor di più in quelle in casa e comunque io oggi pomeriggio guardavo la partita del Milan sperando che questa sera potessimo essere primi pensate un po' e vabbè comunque primo tempo abbastanza equilibrato nel quale come detto dinanzi ad un sassuolo ben messo in campo chiuso e solido difensivamente non riuscivamo a dare particolare ritmo e fluidità al nostro palleggio ma comunque nell'arco dei 90 minuti abbiamo creato tre palle goal nitide che dovevano essere assolutamente sfruttate con maggiore freddezza in primis quella di Osiman quando consigli ingenuamente gli ha regalato palla lì caro Osiman non puoi fallire un'occasione del genere perché tiri da soterra lì devi tirare un bolide dentro la porta ma anche l'occasione di Mertens nel secondo tempo sull'uno a uno a tu per tu con consigli un tiro debole che è finito a lato ma poi tantissimi calci d'angolo abbiamo racimolato un numero incredibile di tiri dalla bandierina che non sono stati sfruttati per nulla nel modo giusto quasi tutti direttamente nelle mani di consigli o respinti dalla difesa del Sassuolo che ha dominato il gioco aereo eppure soprattutto nel finale avevamo tantissimi giocatori alti in campo e vabbè comunque il primo tempo si è concluso sul risultato di 0 a 0 entrambe le squadre hanno fraseggiato molto come detto c'è stata l'occasione di Osiman sull'ingenuità di consigli e poi un'altra occasione sempre creata dal nigeriano che ha recuperato palla a metà campo fatto un'ottima giocata palla al piede fino al limite dell'aria dove però poi ha tirato e ha sparato il pallone alto qui bellissima giocata ottimo cost to cost ma c'è stata davvero poca freddezza al momento del tiro Osiman che bisogna dirlo comunque quest'oggi ha lottato si è sacrificato tanto per la squadra ma è comunque ancora un calciatore acerbo sotto certi aspetti che ha ancora tanto da lavorare e da migliorare nel secondo tempo creiamo un'occasione con un calcio di punizione di Mertens dalla lunga distanza rispinto da consigli in calcio d'angolo ma poi al 56esimo viene concesso un calcio di rigore al Sassuolo Di Lorenzo a terra Raspadori in aria inizialmente l'arbitro non aveva visto il contatto poi dopo un po' viene chiamato dagli uomini al VAR va a consultare il monitor e concede il calcio di rigore in favore del Sassuolo sul dischetto c'è Locatelli che spiazza Ospina e porta in vantaggio i suoi e dopo l'1-0 oltre all'occasione clamorosa di Mertens alla quale ho fatto riferimento prima siamo riusciti a creare ben poco ci abbiamo sì provato insistentemente abbiamo schiacciato il Sassuolo nella propria metà campo ma non siamo riusciti a renderci più particolarmente pericolosi ripeto l'occasione di Mertens è stata davvero clamorosa il gol se l'è divorato Politano che gli aveva dato davvero una gran palla gli aveva servito un ottimo assist sul secondo palo poi arriva il gol del 2-0 al 95esimo dopo un gol annullato a Manolas per una precedente posizione in fuorigioco di Osiman che aveva colpito il pallone di testa consigli apparato e rispinto sulla traversa poi è arrivato Manolas a depositare in rete però poi c'è stato il VAR appunto a confermare la posizione di fuorigioco del numero 9 azzurro poi c'è stato un episodio molto discusso nel quale Osiman è stato trattenuto da Marlon se non sbaglio che gli ha tirato la maglia i calciatori del Napoli hanno reclamato un calcio di rigore ma a quanto pare il contatto tra Marlon e Dosiman è anche avvenuto fuori dall'area di rigore poi è un episodio comunque da valutare meglio comunque sul ribaltamento il Sassuolo va a segnare il gol del 2-0 con Maxim Lopez e dunque una sconfitta davvero molto pesante ed amara sulla quale ovviamente bisognerà mettere una pietra sopra però è una sconfitta che davvero fa molto male perché vincendo quest'oggi potevamo davvero consacrarci alla grande all'interno di questo campionato e vabbè come detto bisogna migliorare sotto questo aspetto cioè quello di non riuscire a dare ritmo al gioco e al palleggio dinanzi a squadre che si chiudono riguardo alla prestazione dei singoli pochi ovviamente hanno fatto bene mi è piaciuto molto Bacaiocone il primo tempo che ha gestito comunque bene palla a centro campo è stato sempre presente lì in mezzo al campo dei tre brevilinei dietro Politano ha fatto qualcosina in più certamente è stato tra i migliori in campo del Napoli ma Lozzano e Mertens davvero molto poco poi Di Lorenzo Di Lorenzo è un calciatore che ultimamente non mi sta convincendo proprio più lo vedo molto lento macchinoso in fase di copertura sulle fasce spesso lascia molto a desiderare non supera più l'uomo e non riesce a dare quell'apporto che riusciva a dare prima in fase di spinta dopo il lockdown l'ho visto davvero in netto calo e vabbè che dire adesso rientriamo in campo giovedì contro il Rieca in Europa League una partita importante da vincere adesso le due partite contro i croati vanno assolutamente vinte sarebbe ovviamente fondamentale portare a casa i sei punti contro il Rieca in chiave qualificazione mentre riguardo al campionato domenica prossima siamo attesi dall'ostica trasferta di Bologna e dunque detto questo io vi saluto noi ci vediamo ad un prossimo video e sempre e comunque forza Napoli